novena a san giovanni battista settimo giorno 21 giugno nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o glorioso san giovanni che con grande coraggio rimproverasti non solo gli scribi e dei farisei ma anche lo stesso re erode ottienici la grazia di non lasciarci mai condizionare da nessuno di questa terra nel fare i nostri doveri e le opere buone gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen san giovanni battista prega per noi nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti